allora buonasera ancora sempre al solito posto volevo fare un band scan diciamo delle stazioni rai in onda media italiane questa è una lista qui più o meno aggiornata che vediamo un pochettino ecco cominciamo con 657 pisa coltano ottimo segnale andiamo avanti 900 sono aperti dei processi milano viziano milano su secco accordiamo siamo avanti come venezia campalto 936 936 936 ecco qua arriva pure qualche altra cosa comunque in direzione nord per le montagne vince il nord nord italia questa è venezia campalto passiamo avanti 981 trieste monteradio 9 c'è una stazione araba ma non c'è trieste è coperta da qui 999 andiamo avanti torino eccola qui 1062 1062 qui ci sta la sardegna eccola qui 1062 questa è ancona cagliari e catania c'è l'effetto eco perché chiaramente catania e cagliari arrivano molto forti oggi siamo avanti adesso con un'altra roma montecioci 1.107 eccola qui vediamo avanti Palermo 1.116 questo è Palermo 1.431 è Foggia 1.431 eccola qui girando l'antenna verso est andiamo avanti 1.1449 Como Belluno non so eccola qua 1.575 eccola qui questa è Genova Portofino questo è Genova Portofino ho fatto una lista insomma non aggiornata però volevo farvi vedere qui sul mare come arrivano le onde medie insomma ecco questa qua Genova Portofino qui con la ferrite per variabile arriva fortissima anche così arriva abbastanza c'è qualche cosa ecco qua le luci danno fastidio le luci del porto lì a led che rientrano nella radio abbiamo finito di ascoltare ok il faro è rosso signori buona serata a tutti alla prossima